mi trovo a tramontone in via salvo d'acquisto ma mi domando ma qui abitano i cittadini o abitano i puffi guardate che marciapiede ridicolo osceno è stato creato guardate un po' qui guardate ma se io devo camminare sul marciapiede mi dite come devo camminare guardate guardate voglio farvi vedere guardate io mi trovo qui percorro la strada in giro e trovo una curva pericolosissima anzi prego al cameraman prego il cameraman di stare attentissimo a non essere falciato a non essere scaraventato in aria come devo camminare dove devo passare signori dell'amministrazione comunale amministrazioni presenti e amministrazione attuale come devo camminare il marciapiede come faccio immaginare posso camminare così fatemi capire non ne parliamo poi dei disabili i disabili qui proprio rischiano la vita in carrozzella non ne parliamo proprio ma pensate un po' una persona in una curva pericolosissima a gomito pericolosissima soprattutto di sera una persona dove cazzo deve camminare dove cazzo deve camminare scusate la volgarità perché mi viene rabbia era così difficile fare un poco 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 più ampio il marciapiede un poco almeno per far sì che pur adagiandoci al fogliame agli alberi potessimo camminare neanche quello perché ecco perché ho detto all'inizio ma qui cosa vivono i cittadini gli esseri normali o i puffi perché se prendiamo il grande puffo e puffetta e gli altri amici di puffilandia vanno benissimo camminano benissimo qui ma si dà il caso che non stiamo al villaggio dei puffi ma stiamo a tramontone siamo in via salvo d'acquisto questa è uno dei dei plessi è uno dei tanti ma guardate qui cioè io come dovrei camminare così così dovrei camminare sul marciapiede pensate a un anziano pensate a una donna incinta pensate a una persona che ha portatrice di disabilità e qui troviamo un'altra curva un'altra curva a gomito pericolosissima per cui io sto camminando qui e sono costretto costretto ad andare sul manto stradale e sono costretto a trovarmi un'auto di fronte che mi può far saltare in aria come in questo caso guardate qui poi si amplia grazie a dio il marciapiede e assume una dimensione normale ma stiamo scherzando ma cos'è una presa per culo ma come è stata architettata come è stata disegnata questa strada guardate qui di nuovo perché torno e ritorno non riesco a darmi pace perché tale l'idiozia con la quale è stata realizzata che una persona normale un soggetto non può rendersi conto di questo non può darsi pace dinanzi a questo scemo guardate un po ditemi voi guardate succede a taranto quartiere tramontone via salvo da acquisti signori non è il villaggio dei puffi di papà peio non c'è puffetta non c'è il puffo tontolone non c'è grande puffo ci sono i nostri uffici tecnici che davvero con questa cacata ci fanno soltanto ridere ma ridere o piangere forse meglio ridere anziché piangere